Iniziamo, 2, 1, missione e ripetere! Questo non è un tutorial, ma è un modo per approfondire quanto ho già detto precedentemente riguardo ad Avorion. Allora, onestamente non so da che parte cominciare perché ci sarebbe tanto da dire. Intanto, beh, questa è la nave designed by Ibu ed è una nave per combattere, con cui comunque abbiamo fatto diversi pirati. Io sto condividendo la mia partita, sto stando, ovviamente nulla vi vieta di prendervi un server nitrado se avete tanti amici, volete creare un vostro mondo persistente e potete unirvi anche invece a server già esistenti, perché è un gioco che si presta molto bene al massivo. Allora, iniziamo da quello che vi avevo già detto la volta scorsa. Col tasto I accediamo al nostro inventario personale, quindi la nostra nave, la cariù della nostra nave, poi parleremo anche di quello. Abbiamo i sistemi della nave e il cargo, la distribuzione dell'energia e così. Premendo invece P, la situazione diventa molto più interessante perché abbiamo modo di vedere la diplomazia nostra personale oppure accedere all'alleanza. L'alleanza è la base per poter giocare con un amico, nel senso che sia che giocate con un amico solo che giochiate in un server massivo, l'alleanza è una sorta di gilda. Vi facilita tantissimo le cose, soprattutto se giocate in due, perché in questo caso noi l'abbiamo fondata, siamo noi due. E nel momento in cui voi andate a crearvi una nave, voi flaggate un'impostazione che vi dice nave di fazione e andrete in automatico a usare tutti i materiali di fazione, andrete a usare i soldi di fazione e tutto quello che farete con quella nave, così come stiamo facendo noi, adesso fai vedere magari se hai un mining laser, se vuoi fare, mentre io continuo a spiegare, Ibu va intanto a scavare, intanto vi faccio vedere nel menu. Qua avete l'inventario, quello sulla destra è l'inventario di fazione, praticamente tutto quello che raccoglie lui, che raccolgo io, finisce direttamente qui, così anche per i soldi, così per i materiali, i minerali e l'equip. Quindi avete tutto in comune, da qualsiasi parte della galassia voi lo prendete, finisce lì, che è un po' una scorciatoia, però è comodissima, perché è tutto condiviso, è come se fossimo un unico giocatore, ovviamente siamo divisi in due, ci scambiamo il loot usando appunto la... e ci scambiamo gli oggetti usando appunto l'inventario di fazione, abbiamo l'emblema e abbiamo tutte le fazioni che abbiamo incontrato. Il colore del nome è la reputazione che abbiamo con loro, quindi se sono viola siamo sul neutrale, rosso molto male, l'azzurino è il good e l'excellent invece è una reputazione ottima e quando siamo in good o excellent abbiamo modo di comprare da loro qualsiasi tipo di materiale e soprattutto nuove tecnologie. Sul discorso tecnologie, anche qui c'è molto da dire, perché è tutto legato ai tier di materiali. Adesso Ivo se sta scavando, vediamo. Beh intanto, beh io non posso. Dovete vedere un po' di titania che faccio. Ok, vedete lì a destra c'è il titanium. Adesso, vedete lui sta scavando e intanto quel 169 che vedete lì sulla sinistra, che vedete qui, sta finendo, 233, sta finendo tutto nel titanium. Ora, mi è arrivato un avviso, praticamente vado nella flotta, noi abbiamo mandato una nave a commerciare, la nostra nave qua chiamata Pinta, ha portato a casa 1.034.000, 1.340.000 insomma, che vanno ad aggiungersi ai soldi. Io adesso li prendo, la nave è in idle, quindi adesso noi possiamo andare a vedere, premendo il tasto M, vedo dov'è la Pinta, era la Pinta oggetto? Sì? Pinta sì. Ok, vedete la Pinta me la indica qui, quindi era qui. Io cliccando sulla Pinta posso decidere dove mandarla, premendo appunto M, perché poi vi spiego anche un altro tipo di mappa. Con la M posso mandarla a fare trade. Trade la mando in questo settore, non mi ricordo tu cosa l'avevi mandata, perché la possiamo gestire in due questa cosa in coppa. Io seleziono qui, scelgo in automatico, ti ricordi? Se sei lì vicino a casa, fagli fare l'acido. Vedete qua, sono Computation Mainframes, Proton Accelerator, Antigrass, e ci dice in base a quanti soldi gli diamo, quanti ne porterà a casa, dai 375 ai 417.000 in 23 minuti, con il 9% di possibilità di imboscata. La nave si può difendere, ma lì ci arriveremo dopo anche a questo. Allora, intanto no, non mi piace molto questo commercio. Acid, hai detto? Eccolo qua, Acid, infatti, vediamo, dandogli 911.000, che probabilmente è il massimo che possiamo permetterci. Porta a casa, e non ci conviene, 300.000. Medical Supplies, men che meno. Chemical, chemical. È arrivato un avviso. Ok, i pirati stanno attaccando il settore. Scusate, dobbiamo interrompere e andare ad attaccare. Ok, do una mano a Ibu, attivo con l'uno e il due le torrette, sia automatiche che manuali, e attacchiamo i pirati. Vedete come li stiamo attaccando in due? Meglio di così non poteva andare. Riusciamo a far vedere anche un po' di combattimento. Ok, esplosa. Intanto vedete che rimangono evidenziati alcuni oggettini. E quando li prendiamo... Lo prendo. Ok, li prendi tu, li prendo io. Uguale, finisce nell'inventario di tutti e due dell'alleanza. Ok, stavo facendo la pinta. Torniamo di là. Più ci allontaniamo con la visuale, più sono in vista le navi, più, vediamo, appunto, compaiono qua sulla destra. Allora, andiamo a prendere la pinta e gli diciamo... Le opzioni sono tante, eh. Noi gli diciamo trade. Possiamo andarla qui. Vediamo cosa c'è. Computation Mainframe. Sai che non lo so, perché non si guadagna moltissimo. 400.000, fare Computation Mainframe con il 10% di possibilità di imboscata. Lo facciamo, un viaggio su... Come? Ma sì, fai quello, tanto... Sì, 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 ok. Quindi lui scala un milione e sei e ne porterà a casa due milioni, credo, prossimativamente. Start. E adesso lei sarà impegnata per 23 minuti. Ok. No root selected. No. Non lo fa. Trade. Perché mi danno root selected? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Start. Ok. Adesso l'ha preso. E va. Ok. Allora, la nave è andata. Adesso non... Di che cosa dobbiamo parlare dopo? Allora, abbiamo fatto vedere... Da che ci siamo, parlerai del fatto della possibilità di subire degli ambush. Visto che hai fatto vedere. Ok. Nel caso in cui subissero degli ambush si possono difendere. Però il capitano non credo abbia grandi abilità militari. Infatti, essendo che ci sono vari tipi di capitani, dagli scavenger ai minatori, ai commercianti, a quelli offensivi, la scelta del capitano va fatta ponderata, diciamo. Se riesci a far vedere una nave dalle nostre, magari con un capitano, dalla vista anche quella con la P, e vedi tutti i tratti che hanno i vari capitani. Allora, io vado con la P, vado su la Nina. Vedete che qua c'è un capitano che ha le licenze di cargo sospetto e pericoloso, quindi possono fare missioni più avanzate, carichi di qualsiasi tipo di merce. Livello terrain perché sta salendo di livello. Lo paghiamo 28.000 ogni tot minuti, ogni due ore, qualcosa. Lui è stealthy, quindi abbassa il pericolo di imboscata. È attento, insomma, abbassa appunto l'imboscata. Anche questo. È più lento però perché è disorientato nel completare i comandi, ma è anche fortunato, quindi può trovare oggetti, tool, scusate, equipment. L'altra, l'altra cargo, la Pinta, è un capitano, anche lui, posta con il ruolo di mercante, è di livello 2, trasporta gli stessi carichi dell'altro, è educato, guadagna più esperienza e costa meno, infatti costa 27.000, vabbè, tanto meno no, vabbè. E invece questa, la Dwarf, che è una nave mineraria che gira scavando, ha un capitano minatore con la sua esperienza. Questo cambia molto perché, adesso penso tu ne sappia più di me, perché l'hai curato di più, però credo che avere un capitano più efficiente porti più soldi e tante cose e la differenza è proprio evidente rispetto a un capitano di basso livello o comunque con le abilità. Prima di tutto, se lo mandi a esplorare, ti leva le zone a quelle che vedi gialline sul radar, quelle nascoste, diciamo, e ti evidenza i campi di asteroidi. Quindi se mandi in esplorazione minatore, ti trovi a campi di asteroidi invisibili. Non segnati sui reticoli. Non segnati sui reticoli. Poi il nostro ti dà due torrette in più unarmed, quindi o laser o quelli da recupero metalli. E ti allunga la durata dell'azione quando lo mandi a scavare. Vedi che ti dà più di due ore e mezza. Quindi il nostro può minare per quattro ore e mezza. Ok. dovergli continuare la relazione. Questo è utile se avessimo un server sempre acceso. Sì, sì, perché va avanti comunque anche se non siamo qua. Perché va avanti da solo. Questo è un capitano che invece ha un alto rischio degli agguati. E infatti ogni tanto capita che bisogna andare a salvarlo. E' reclessa, sì, 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 sì. Poi mi dicevi il discorso... Scusami, un'altra cosa sui capitani. Anche sulle nostre navi, quelle che stiamo usando io e te, possiamo metterci il capitano e ha esattamente gli stessi effetti come se noi non la guidassimo. Quindi se io avessi un capitano minatore, mi evidenzierebbe gli asteroidi, quelli nascosti, quelli che vediamo già con il metallo. Mi aggiungerebbe le due torrette laser da scavo e potrebbe essere una cosa buona, soprattutto per la coop, se non si gioca sempre tutti assieme. Io ti lascio un capitano sulla mia, intanto che tu giochi e io sono via, mandi la mia esplorazione, così sfrutti la nave che non sta lì ferma. Esatto, infatti, quando noi vediamo una nave qui e gli possiamo dare i compiti, lo possiamo fare solo perché c'è un capitano a bordo. Se io sono offline, questa nave qui non ha niente. Così come anche se io posso scendere con il tasto T dalla mia nave, adesso arriviamo a un'altra caratteristica. Questa nave qui, dal drone, dove mi trovo ora, posso andare sulla mia nave e dargli un compito. Così come posso, sempre col drone, teletrasportarmi istantaneamente in qualsiasi altra nave. Quindi posso cliccare sulla Black Pearl o sulla Dwarf o su qualsiasi altra nave che ho, tipo sulla Pint in questo caso, posso fare Switch to Nina e dentro in controllo di quella nave. Quindi è comodo perché posso entrare in qualsiasi momento, in qualsiasi parte della galassia a controllare quella nave. Mentre invece se io entro nella tua, possiamo condividere la stessa nave. Quindi ci si può fare una capital e giocarla. Ma adesso non mi lascia entrare, non so il motivo. No, sono... Non so io, no. Sei entrato? No, 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 no. Ah, ti devo selezionare giustamente. Entra ship. Ok. E vedete che io ho il controllo di niente. No, che torrette. Ok, sì, infatti sto sparando, ma non è una torretta mobile, quindi posso solo sparare. Usa l'uno. Che torrette l'uno? Non ce l'ho abilitato. Ah sì, adesso sì. Sì, però spara dritto anche questo. Uh, non spariamo di là perché? Esatto. Allora... Va bene, per far vedere che tu stai guidando, io non sto facendo niente. E ci possiamo dividere i compiti, quindi viaggiare. Io dovresti poter anche sterzare le torrette e adesso probabilmente ho qualche impostazione, qualche limitazione. Quello che non possiamo fare invece, che ci siamo informati visto che non si può, è fare una nave grossa e mettere la nostra nave all'interno di quella nave grossa. Almeno se qualcuno poi di voi è più esperto e magari ne sa di più, ce lo dica, insomma, ci dica avete sbagliato. No, si può, che io sono contentissimo se questa cosa si può fare. Ora, io ho la mia nave indie, vedete, faccio switch to indie e ritorno sulla nave senza tornare indietro a mano. Adesso, visti questi aspetti, parliamo del discorso dei materiali. Allora, io ho paragonato, poi mi direte voi se è giusto o meno il paragone, però una delle grosse differenze tra questo gioco e X4, per quanto siano giochi profondamente diversi, questo è un gioco che lo identifico un pochino anche come, per quanto riguarda il loot, a un knock and slash, nel senso che un diablo, trovate mille oggetti uccidendo i nemici, qua fate la stessa cosa con le astronavi, e gli oggetti hanno vari colori, in base alla rarità, in base alla qualità, insomma, del materiale. Questo è importante perché un oggetto è profondamente diverso dall'altro, quindi qua si aprono diversi discorsi. Primo, quando voi dovete costruire una nave e mandarla a fare una qualsiasi tipo di attività, non è che lo fate come su X4, che comprate un minatore e gli dite mina fine e li prendete, dovete primo mettergli l'equipaggio, quindi o equipaggio qualificato o per ai generici in buon numero in modo da renderli efficienti, dargli un capitano, se lo volete mandare da sole, e ultimo ma non ultimo, dargli un equipaggiamento decente. L'equipaggiamento decente è diviso tra i sottosistemi che appunto, in base alla dimensione della nave, avete tot sistemi, e, insomma, vi danno dei buff, vi possono dare più difese, vi possono dare più torrette, più lo scanner commerciale, più energia, più accelerazione, insomma, tantissime cose. E con la B nel menu di costruzione gli mettete le torrette. Le torrette, mi spiegava Ibu che praticamente voi, se andate a minare la Naunite, ad esempio, qua in alto a sinistra vedete che ci sono tutti questi materiali qui, fino all'Iron all'Avorion. I materiali li trovate man mano vi avvicinate al centro della galassia. Noi siamo qui in zona di Naunite, quindi calcolate che prima di questa Naunite, sì, prima di questa zona, quindi più o meno da qui in là, trovate solo Titanium e Iron, e andando in là troveremo anche gli altri, quindi il Titanium e così. Per scavarli dovete avere il giusto, la giusta torretta di mining e, come mi spiegava, ogni torretta ha un materiale che è in grado di scavare. Allora, adesso vi faccio vedere. Vedete che qui, adesso appena la trovo, questa, vedete che c'è Material Iron. L'Iron significa che vi scava il materiale stesso che scava lì e quello appena superiore, quindi in questo caso vi scava Iron e Titanium. Se trovassi una torretta con materiale Titanium, mi scaverebbe l'Iron, il Titanium e la Naunite, che è subito quella dopo. Ne trovo una in, non so, in Trinium, posso scavare Iron, Titanium, Naunite, Trinium e Xanion e così via. E la particolarità che ha scoperto Ibu, perché io non ci sarei mai arrivato, probabilmente ve lo direbbe il gioco, comunque, se voi mettete una torretta in Naunite, la componente, diciamo il cubo della nave su cui la posizionate, deve essere del materiale della torretta. Quindi se avete una, questa torre, questa, questa non c'entra niente perché è una, un cannone, però vedete che il materiale è Naunite. Per piazzarlo dovete piazzarlo su un blocco di Naunite. Almeno di Naunite. Almeno di Naunite. Anche superiori, però almeno di Naunite. Però tu non puoi fare due cose dall'inizio del gioco, non puoi costruire la nave delle dimensioni che vuoi e non puoi fare le navi dei blocchi, dei materiali che vuoi e devi sbloccarli andando avanti. Andando avanti significa andando avanti, facendo missioni e lutandoli in zone più rischiose. Giusto? Perché tu hai trovato la possibilità di costruire la nave con la Naunite, mentre io no. Quindi tu puoi costruire gli scudi e io no. Quindi Esatto, questa è una delle poche cose non condivise in Gilda, in alleanza. Perché se tu mi dai il tuo progetto io non posso costruirla una nave con quella caratteristica lì. No, perché è bind to user praticamente. Ne avevo trovato un altro ma non posso passarlo agli altri. Ok. Devi ritrovartelo tu. Ok, è bindato. Esatto, è bindato. Quindi Save the Design, io ho le navi, la nave, tu ne hai parte diverse, c'è la nave con gli scudi, ma non posso usarla perché non posso costruirla. Devo andare e scomplire qualche boss, qualche missioncina andando avanti e qualche nemico che mi lascia il loot di quel progetto lì. Oppure comprarlo dalle fazioni, ma le fazioni in questa zona man mano vi avvicinate al centro sono sempre più ostili o comunque diffidenti nei nostri confronti, quindi non vorranno commerciare tecnologie così preziose. Così come anche appunto i progetti per navi più grosse, quindi più di questa dimensione credo che al momento non possiamo fare. L'ultima cosa diciamo importante, quella nave lì e gli scudi si vede. L'ultima cosa allora, premendo il tasto N invece si apre questa mappa che è comodissima. Questa mappa qui ci mostra in ogni sistema, noi arriviamo in un sistema, premiamo N subito, vediamo tutte le stazioni. Quindi possiamo già selezionando le stazioni vedere dove sono, quindi doppio cliccando ce le punta, quindi sul gioco insomma la stazione è già puntata, ma è possibile anche selezionandola premendo F parlare e vedere già se quello che vendono ci interessa. Nel caso qui ci interessa dobbiamo attaccare e fare il commercio, ma non è finita qui, vediamo anche le altre navi, ma anche le merci che si commerciano in questa zona qui, si vendono e si comprano. L'HRU, cioè vediamo già che capitani sono liberi per... Quali capitani e quale equipaggio c'è reclutabile. Esatto, questo è il pannello dell'HRU, vedete che al trading post vendono ufficiali della sicurezza, però non vendono i capitani, qua ne ha. Uno, ma non è... Li vedete già con le caratteristiche, quindi sapete già dove sono, così saltate in un settore, non c'è niente che vi interessa, andate oltre. Fine. E qui invece vedete le missioni disponibili, dove sono e quali sono. Da questa vista ci si può anche muovere intanto che... Esatto. Altre o col destro. Se volete fare alto potete puntare col destro una zona, selezionando ovviamente la vostra nave. e cliccare e dirgli di andare in un punto piuttosto che in un altro. Vedete fly here e diventa una sorta di strategico mentre lei guida mentre voi fate altro. Intanto va. Ovviamente dovete sempre fare attenzione a ogni cosa. No, come dicevo appunto, la cosa più lenta diciamo nel gioco, che poi ad alcuni può piacere tantissimo, è il fatto che se io adesso voglio mettere su una flotta di navi minatrici, devo avere in primis l'equipaggiamento. O so chi lo vende, ho buoni rapporti con gente magari più avanzata nella galassia e quindi li compro da loro, però devo mettere ogni singola nave, voglio fare 100 navi, devo equipaggiare 100 navi io. Cioè non credo ci siano altri modi, quindi è un lavoro abbastanza complicato. Sì, proprio che va fatto a mano. Sì, esatto. Quanto meno piazzare le torrette così va fatto a mano. Perché in X4 si compravi la nave, gli davi l'equip massimo, gli dicevo io non vado a spese, compro la versione più bella, il capitano vi davano il più bello che vi potete permettere in quel momento e finisce lì, gli date gli ordini e va. Qua no. E dovete anche, se non volete usare i navi del workshop, che magari non conoscete, dovete fare pratica costruendo navi. Adesso, io non ho grossa esperienza, tu l'hai trovato difficile la costruzione della nave? Allora, con un attimino di mano si fa tutto. Ovvio deve piacere perché ci metti dieci minuti, due ore, dipende da come ti prendi. E a mio parere è molto più soddisfacente farmele e non scaricarle perché comunque le fai col design che vuoi, ti ha l'idea in mente. Certo che se uno ha mezz'ora per giocare dopo il lavoro non si mette sicuramente costruendo le navi. Se lo gioca e basta. E l'ultima cosa invece che non abbiamo ancora visto è se quando voi costruite una nave e la spuntate come nave fondatrice, quella nave può diventare una stazione spaziale. E questo apre ogni genere di scenario possibile perché potete rendere la vostra stazione una fabbrica, un avamposto commerciale, tutto quello che volete, dovete tenervi almeno tre chilometri lontani dalla stazione da altre stazioni. In caso contrario vi arriverà un avvertimento che vi dirà dovete lasciare la zona, dovete spostarvi, quindi dovrete attaccare una vostra nave, attivare i motori e spostarla manualmente perché da quel momento in cui la nave diventa una stazione diventa immobile. Ovviamente più stazioni fate più magari date fastidio ad altra gente, potreste subire attacchi, potrete perdere reputazione con gente che si sente attaccata economicamente, però potrete anche avere gente che arriva nel settore per commerciare con voi. Adesso tutto il sistema prezzi, non so come funzioni, ma credo che in base ai prezzi attirerete più o meno persone. I pirati stanno attaccando il settore ancora di nuovo, quindi possiamo andare, credo, eccoli là, se non ci lasciamo le penne, attivare torrette automatiche e altro. Tu ci sei? Che ogni volta che distruggiamo i pirati sono una botta di reputazione. E ci pagano anche parecchio, tra l'altro. Eh, sì, abbiamo perso, abbiamo... L'unico modo per alzare la reputazione oltre un certo valore è fare i pirati, perché poi col commercio ti si alza, ma fino a buono, credo. Beh, abbiamo guadagnato un bel po', perché adesso, prima eravamo bad, fino a un po' di tempo, qualche ora fa eravamo bad, adesso siamo neutral, appena arriviamo a good, posso andare, che il mio obiettivo è quello, andare al resource depot, clicco qui, vedete F, è di building knowledge, e praticamente mi daranno la competenza per costruire anch'io con la naunite, presumo, eh, perché ce lo stiamo un po' guardando pian piano il gioco. Allora, io direi che non resta altro, a meno che non ti venga in mente qualcosa? Per questa direi che, meno male, abbiamo fatto vedere un po' tutto. tutto quello che c'era da dire sulla coppa. Sulla coppa, ecco, esatto. Ci sono altri mondi del commercio, della costituzione così, ma da trattare ovviamente a parte, perché sono... Sì, 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 infatti adesso, ovviamente, giocandolo in due, non ha neanche senso tenere un profilo personale, con i soldi personali, perché alla fine stanno cercando di fare soldi. poi se ne potrà parlare. Però è un gioco che ha un potenziale infinito se avete gente con cui giocarci. Il gioco stesso vi offre l'opportunità di acquistare dei server mensilmente, con cui giocarci con amici, quindi se avete diversi amici potete farlo. Il gioco è anche piuttosto difficile andando avanti. O potete unirvi ai server grossi, magari quelli ufficiali, quindi potervi godere il gioco. Ma anche da solo non è male, nel senso che come giocate X4 ed è soddisfacente giocarlo da soli e lo è anche questo. Quindi, io ringrazio Ibu per l'assistenza in questo video sulla Coppa. Non c'è di che. E niente, vi saluto. Non mancate di farci sapere qua sotto che cosa ne pensate di questo gioco. In questo secondo video che avevamo promesso anche agli sviluppatori di presentare al pubblico italiano la Coppa. Spero vi sia piaciuto. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.